Qualità della vita, Caltanissette è la sua provincia all'ultimo posto in Sicilia e al terzultimo in Italia, indagine annuale del sole 24 ore. Banco alimentare, volontari impegnati nella consegna dei prodotti raccolti. Marocco in semifinale mondiale, la festa è qui, la comunità magrebina di Caltanissette sogna il trionfo contro la Francia. Capodanno con Achille Lauro ad Agrigento, sarà il cantante veronese ad animare con i suoi successi la notte tra il 31 dicembre 2022 e il 1 gennaio 2023. Calcio, tre punti per San Cataldese e Nissa, verde amaranto vittoriosi sul campo della Mariglianese, vincono anche i biancoscudati al Tomaselli contro il Mazzara. Ben trovati, qualità della vita, Caltanissette è la sua provincia all'ultimo posto in Sicilia e al terzultimo in Italia. L'indagine annuale è del sole 24 ore. È stata pubblicata dal sole 24 ore la classifica annuale sulla qualità della vita nelle città italiane. Nell'ultimo anno, per sei province su nove, la qualità della vita è migliorata ma la Sicilia rimane comunque in fondo alla graduatoria annuale stilata dal quotidiano. La prima delle città siciliane è Ragusa, posizionata all'ottantacinquesimo posto, mentre nella casella 105 troviamo Caltanissetta, l'ultima fra le siciliane e terzultima in Italia. Rispetto allo scorso anno, trappa nella provincia più virtuosa, migliorando di 12 posizioni e arrivando all'attuale novantatresima posizione. Scala di undici posti Catania, Messina e Siracusa, entrambi a più otto, salgono in classifica rispettivamente all'ottantanavesimo e al novantesimo posto. Palermo cresce di sette punti, piazzandosi all'ottantanavesima posizione, Ragusa di appena due. Peggiorano le altre, con Enna che perde otto posizioni e sta a sesta al centesimo posto in classifica, meno due per Agrigento e chiude Caltanissetta a 105. Banco Alimentare, volontari impegnati nella consegna dei prodotti raccolti. Sono state due giornate intense per i volontari del Banco Alimentare di Caltanissetta che il giorno dopo la festa dell'Immacolata Concezione hanno cominciato a consegnare alle strutture caritative del territorio le derrate raccolte durante la colletta alimentare del 26 novembre, iniziativa che ha visto la collaborazione anche di diverse realtà locali come associazioni parrocchie e scout. La merce raccolta durante la colletta alimentare viene distribuita, viene depositata qui nel magazzino, sempre messa a disposizione da Padre Loveto e della parrocchia di San Marco e viene disposta per tipologia. Tutto quello che è stato preso è disposto già per tipologia quindi pasta, per l'infanzia, legumi e tutto disposto nelle varie settori come potete vedere. Poi la distribuzione avviene, a secondo la quantità di assistiti che hanno le varie strutture caritative, viene destinato un getto quantitativo di merce che è disposto direttamente dalla sede centrale di Catania che dispone tot e quintali di merce per ogni struttura caritativa. Considerate che le strutture caritative che si appoggiano dal Banco di Caltanissetta sono circa più di 30, considerando sia quella in città e comunque tutta la provincia. 19.237 kg di derrate alimentari raccolte nella provincia di Caltanissetta grazie allo spirito di solidarietà dei cittadini che hanno deciso di donare qualcosa e dare così il proprio contributo per la buona riuscita della colletta alimentare. Un dato però questo più basso rispetto all'anno precedente. Ad incidere il maltempo e l'attuale situazione economica, così come ci spiega il responsabile del Banco Alimentare di Caltanissetta, Ramondo Messina, che fa anche riferimento alle crescenti richieste e necessità degli ultimi tempi. In questo momento la gente sta vivendo un grande periodo di difficoltà a seguito del Covid, di tante piccole aziende che hanno chiuso, per cui abbiamo avuto purtroppo una richiesta di aumento del 40%. Io approfitto di questa intervista per rilanciare ancora l'ennesima richiesta di un bagazzino incomodato d'uso. Il Banco Alimentare sarebbe disposto a investire una certa somma, però avremo bisogno dei locali adeguati per poter avere un deposito e così servire le strutture caritative di Caltanissetta, della provincia di Sena e anche della provincia di Enna e d'Agrigento. Mancando questo purtroppo siamo limitati a fare semplicemente la colletta una volta all'anno. Inail infortuni sul lavoro in Sicilia, oltre 25.000 prestazioni erogate, ispezionate 779 aziende nel territorio siciliano. Domani nella sala Mattarella di Palazzo dei Normanni alle 10 sarà presentato il rapporto annuale Inail Sicilia. In Sicilia sono state oltre 25.000 le prestazioni per prime cure per lavoratrici e lavoratori a seguito di infortuni sul lavoro. Ben 779 il numero delle aziende ispezionate nel territorio siciliano e 20 le iniziative tra progetti ed eventi realizzati per accrescere la cultura della sicurezza. Intanto sono stati stanziati oltre 18 milioni di euro per le imprese siciliane per aumentare i livelli di sicurezza sul lavoro con il bando ISI. Le verifiche nell'intera isola hanno riguardato 4.800 attività sia per le attrezzature che per le macchine e gli impianti di cui sono stati accertati i livelli di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Questi sono solo alcuni dei numeri del rapporto regionale Inail Sicilia che il direttore regionale dell'istituto in Regione Carlo Biasco presenterà domani all'incontro organizzato alla direzione regionale Inail Sicilia con il patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana alla presenza del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana l'On. Gaetano Galvagno e del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inail Guglielmo Loi dei rappresentanti del Governo regionale delle più alte cariche civili, religiose e militari presenti in Sicilia. Interverranno Mario Larocca, dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell'assessorato regionale della salute e Salvatore Favuzza, coordinatore del corso di laurea in Ingegneria della Sicurezza che presenterà l'accordo tra l'Università di Palermo e l'Inail per formare i nuovi professionisti per la salute e la sicurezza in Sicilia. Marocco in semifinale mondiale, la festa e qui la comunità magrebina di Caltanissetta sogna il trionfo contro la Francia. Un sogno. Un sogno è il Marocco che batte anche il Portogallo per un a zero e vola in semifinale. Ci va rombendo tutti i tabù che gli si parano davanti. Il girone di ferro superato con grande slancio, la Spagna rese in offensiva e poi il Portogallo. La prima nazionale africana a non essere solo la simpatica sorpresa ma ad arrivare tra le prime quattro dei mondiali. Dovevano essere una simpatica combarsa questi ragazzi e si sono trasformati in una compagine che ha superato grandi squadre, la Croazia, il Belgio, la Spagna e il Portogallo. E diventa quasi inevitabile a fine gara l'empatia con i marocchini in lacrime per la gioia dell'impresa conquistata e un sorriso per quelle provocate in chi incontrandoli ha pensato di avere vita facile. Piazza Garibaldi che in queste sere si trasforma in Rabat o Casablanca e persone che credono di vincere questo mondiale. Francia permettento. Sì siamo troppo felici per la prima volta per la semifinale nel Coppa del Mondo, anche il primo paese nell'Africa, il primo paese nella squadra di Arabo. Speriamo per il finale quest'anno. Finalmente dopo 38 anni, cioè dall'86 che non riusciamo neanche a risperare stavolta, per noi è come se abbiamo vinto già, per noi è come se abbiamo vinto e per sempre forza Marocco. Il Marocco che ha vinto contro il Borsugano e siamo felici e speriamo che arriviamo al Coppa del Mondo, se Dio vuole. Marocco è il mondo mondiale e vanno a superare i mondiali. È il Marocco campione del mondo quest'anno. Una cosa veramente unica, non so che cosa dire, ho perso le parole di quando siamo emozionati, siamo stra stra extra felici. San Cataldo, i mercatini di Natale, inaugurate le casette nel centro cittadino. Anche San Cataldo si veste a tema natalizio ed espone in centro storico le sue casette di Natale. Sono state inaugurate sabato nel tardo pomeriggio le casette dei mercatini di Natale, situate in centro tra la Madrice e la Chiesa di San Giuseppe alla presenza del sindaco Gioacchino Comparato. Il vice sindaco Marianna Gutilla, alcuni componenti del Consiglio Comunale e benedette dall'arciprete Alessandro Giambra. I mercatini, dopo il primo weekend, saranno esposti il 17 e 18 e il 23 e 24 dicembre. Siamo molto contenti di avere dato avvio a questo altro evento a cui ci teniamo particolarmente affinché appunto un po' l'economia ma anche lo spirito di Natale si risvegli un po' all'interno del nostro paese. Questi mercatini saranno la settimana prossima, il 17 e il 18, il 22, il 23 e il 24, qui al centro storico di San Cataldo, tra la Chiesa Madre e la Chiesa di San Giuseppe, in via Roma proprio per risvegliare anche un senso di cultura e di antica tradizione che abbia anche una spolverata di magia, di aria natalizia. Enti locali dalla regione siciliana, più di un milione di euro per sostenere le unioni di comuni. Il Dipartimento delle Autonomie Locali dell'Assessorato della Funzione Pubblica ha emesso il decreto per finanziare con più di un milione di euro le unioni di comuni che ne avevano fatto richiesta lo scorso agosto, con l'obiettivo di rendere più funzionali ed efficaci i servizi rese ai cittadini. L'importo complessivo è di un milione e trentasette mila euro, di cui 550 mila a valere sul bilancio della regione siciliana e 555 mila euro circa a carico dello Stato. A fruire delle misure di sostegno integrato, 24 unioni di comuni già costituite che hanno aderito all'avviso pubblico del 10 agosto scorso. Incentiviamo le unioni di comuni che rappresentano in Sicilia un'importante prospettiva per rafforzare l'efficienza dei servizi verso i cittadini e i territori, in particolare dove risultano carenti di risorse e infrastrutture, ha affermato il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Anche quest'anno, ha aggiunto l'Assessore alla Finanza Pubblica Andrea Messina, la Regione finanzia la gestione associata di alcuni servizi comunali essenziali per i cittadini. Un sostegno importante ha concluso per superare le difficoltà legate alla frammentazione dei comuni che possono così integrare le loro forze, razionalizzare la spesa e indirizzarla verso una maggiore efficacia. Capodanno con Achille Lauro ad Agrigento, sarà il cantante veronese ad animare con i suoi successi la notte tra il 31 dicembre 2022 e il 1 gennaio 2023. Sarà Achille Lauro il grande ospite del Capodanno di Agrigento in Piazza Marconi, ora è ufficiale. La notte del 31 dicembre, a partire dalle 23, il famoso cantante salirà sul palco per animare il concerto dell'ultimo dell'anno. Con lui si alterneranno Lello Nalfino e Riccardo Gatz, mentre a fare gli onori di casa e a condurre la serata sarà Silvio Schembri. La sola ipotesi che potesse essere Lauro il protagonista del Capodanno Agrigento ha letteralmente mandato in estesi tanti fan siciliani. Ora però c'è la certezza, sarà il cantante veronese ad animare con i suoi successi l'ultima serata dell'anno. Ci aspettiamo grandi ricadute economiche sul territorio. I fan stanno geniziando a prenotare Bed & Breakfast e Hotel, ha raccontato alla Repubblica il sindaco di Agrigento Francesco Miciche, spiegando l'entusiasmo che ha generato la notizia. La colonna sonora della serata sarà formata dalle grandi hit come Domenica, me ne frego, Solo Noi, Roma e Rolls Royce. L'obiettivo sarà come sempre stupire per un artista che dell'anticonformismo ha fatto la stella polare della sua scesa nel panorama musicale internazionale. Non mancherà la stravaganza del lucco, pronta a essere declinata sul palco attraverso le coreografie e i versi delle sue canzoni. È tutto pronto quindi per un Capodanno stellare nella città dei Templi, con l'amministrazione comunale che dopo anni di restrizione a causa della pandemia ha deciso di fare le cose in grande. Rosario Petix nel cast del docufilm Ologramma Musica per l'Inclusione Rosario Petix nel cast del docufilm Ologramma Musica per l'Inclusione di Francesco Zarzana ora su Rayplay è andato in onda in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità su Ray 5, film tratto dal libro Ologramma Le parole della musica di Roberta Frison, Claudio Ingrami, Gianni Ricci e Carlo Stanzani, in cui si racconta un'esperienza straordinaria, quella di Ologramma iniziata nel 2010 all'Istituto Meme da un progetto omonimo di direzione di Roberta Frison. Ologramma Musica per l'Inclusione è una docufiction per la regia del grande Francesco Zarzana, che è anche ideatore del progetto e racconta il viaggio di questi straordinari ragazzi e dei loro coach, straordinari anche loro, attraverso la musica che dall'inizio, dalla creazione di questo gruppo arriva fino all'apoteosi dell'apertura del concerto di Vasco Rossi. Nel cast, oltre a me, ci sono dei valentissimi attori, cari colleghi, che praticamente interpretano questi coach da quando hanno cominciato il progetto e raccontano, attraverso le loro interviste, raccontano il viaggio di questi ragazzi, di questo gruppo, con le loro peripezie, con tutte le difficoltà, tutti i problemi che hanno dovuto affrontare, ma poi l'epilogo sarà assolutamente degno di un ottimo lieto fine. E oltre a noi attori che interpretiamo questi coach, abbiamo la presenza della grande Emma Marrone all'interno di questa docufiction e del grande Vasco Rossi che poi ha permesso a questi ragazzi di aprire il suo concerto. C'è anche un bellissimo momento all'interno della docufiction dove sia Emma che Vasco incontrano i ragazzi ed è un momento bellissimo, un momento che apre veramente il cuore. Laboratori di musicoterapia di gruppo e poi nel tempo la trasformazione in ensemble vocali strumentali che diventano orchestrazioni a più voci con cori e vari strumenti. Un progetto che si è evoluto diventando laboratorio permanente di musica per l'inclusione. L'arte e la cultura sono secondo me mezzi fondamentali per la sensibilizzazione del pubblico su temi sociali. Anzi, credo che sia il miglior modo in assoluto poiché l'arte e la cultura, a parte il raccontare i fattori tecnici, cioè quindi le informazioni, gli avvenimenti, cerca di andare anche abbastanza nel profondo, quindi di raccontare le cose anche attraverso l'animo umano, cerca di in qualche modo arrivare al succo delle cose. Credo che l'arte e la cultura siano fondamentali per sensibilizzare su tematiche sociali e spero che in questo paese sinceramente si ricominci a mangiare la cultura e a mangiare di cultura. Il Re Leone al Teatro Margherita con le musiche della banda San Pio X, massiccia partecipazione di pubblico. Ieri sera al Teatro Margherita è andato in scena un classico della Disney come Il Re Leone, adattato con le musiche della banda San Pio X, dirette dal maestro Valerio Antonio Palumpo, e dalla scuola di danza Ballet Academy dell'insegnante Giada Paterna. Tre spettacoli è andati tutti sold out, con il teatro pieno che è stato apprezzato da grandi e bambini. Soddisfatti a fine spettacolo il vice sindaco Grazia Gianmusso e l'assessore Fabio Caracausi che sono rimasti entusiasti della risposta della città e hanno invitato a seguire gli altri eventi natalizi presenti all'interno della Piazza del Natale che si concluderanno l'8 di gennaio. Sport, calcio, tre punti per la San Cataldese e per la Nissa. Verdi Amaranto vittoriosi sul campo della Mariglianese. Vincono anche i biancoscudati al Tomaselli contro il Mazzara. Calcio Serie D, la San Cataldese vittoriosa in trasferta. I Verdi Amaranto conquistano tre punti pesanti contro la Mariglianese. Primo tempo a reti inviolate. Nella ripresa è Tuccio a sbloccare il risultato. Lo 0 a 1 galvanizza la San Cataldese che a 15 minuti dal novantesimo raddoppia meritatamente con Zerbo, autore di una prodezza. Nel finale la Mariglianese accorcia in vano le distanze. Nel girone I guida saldamente la graduatoria il Catania. A nove lunghezze le inseguitrici Locri e Lamezia. I risultati della giornata. Catania, Real Aversa 1 a 0. Cittanova, Castrovillari 0 a 0. Licata, Trapani 2 a 2. Locria, Cireale 2 a 1. Paternò, Lamezia 0 a 1. San Luca, Ragusa 2 a 2. Mariglianese, San Cataldese 1 a 2. Vibonese, Santa Maria 3 a 1. Sant'Agata, Canicattì 2 a 1. La classifica. Catania 39 punti. Locri e Lamezia a 28. Sant'Agata, Vibonese 25. Ragusa 22. Castrovillari, Licata, Trapani 20. Real Aversa 19. Canicattì 18. San Luca e San Cataldese 17. A Cireale 15. Santa Maria, Cittanova 14. Paternò 13. Mariglianese 3. Nel campionato di eccellenza, Girone A. La Nissa supera il Mazzara allo stadio Marco Tomaselli. Ospiti in vantaggio con un gol firmato da Castro al 26esimo. Pochi minuti dopo arriva il pareggio messo a segno da San Martino. Sull'1 a 1 la squadra mazzarese capitola la seconda volta con Messina. Nel finale i biancoscudati vanno ancora una volta a segno con la Vardera. In vetta la classifica sempre l'Acragas, vittoriosa tra le mura amiche con la Don Carlo. A seguire l'Enna che spugna il campo della Parmonval e la Profavara che travolge il Cus Palermo. Il quadro completo dei risultati della giornata. Castellammare Sciacca 1 a 1. Parmonval Enna 1 a 4. Acragas Don Carlo 2 a 0. Casteldaccia Leonfortese 0 a 0. Profavara Cus Palermo 5 a 0. Oratorio Marineo Resuttana 3 a 3. Mazzarese Gela 1 a 0. Nissa Mazzara 3 a 1. La classifica Acragas 33, Enna 32, Profavara 31, Don Carlo 29, Mazzara 25, Mazzarese 24, Sciacca 23, Casteldaccia 20, Nissa 18, Castellammare 17, Leonfortese 15, Oratorio Marineo 13, Resuttane Cus Palermo 8, Gela 6, Parmonval 5. Le interviste al termine della partita Nissa Mazzara. La Nissa ritorna al Marco Tomaselli e ritorna alla vittoria. A fine gara abbiamo sentito il presidente Sergio Iacona e il scenrocambista Marrico Messina, autore del terzo gol bianco scudato. Per la squadra del Mazzara abbiamo ascoltato le parole dell'allenatore Dino Marino. Le ambizioni sono quelle di continuare un percorso di crescita graduale e soprattutto quelle di fare innamorare nuovamente gli sportivi di Caltanissetta e farli tornare allo stadio. Oggi c'è stata una bella risposta, però devo dire che ancora dobbiamo migliorare. Io ho provato una grande emozione a vedere le maglie bianco scudate di nuovo su questo terreno di gioco e quindi francamente penso che da qui puoi iniziare un percorso in cui fare un campionato tranquillo. Il nostro obiettivo fin dall'inizio è stato questo e non chiediamo altro. Poi magari riuscire a programmare il futuro in maniera più convinta ma con tranquillità. Già crediamo di avere potenziato abbastanza la squadra. Probabilmente tra qualche giorno sarà a disposizione un giocatore molto importante e in grado davvero di fare compiere un salto di qualità. Quindi probabilmente potrebbe mancare solo un ulteriore ritocco. Però già adesso bisogna aspettare qualche giornata perché ci sono tre con quello di cui parlavo. Sono quattro nuovi innesti. Il tempo è anche di trovare un po' di intesa tra di loro. Però secondo me non può che migliorare la squadra. Noi siamo convinti che ci sono delle squadre sicuramente più forti della Nissa anche perché hanno fatto investimenti più importanti. Però ce ne sono tante che sono sicuramente dietro di noi. Quindi noi non abbiamo l'assillo di doverci salvare. Contrariamente a quello che ho letto in alcuni commenti veramente stupidi, beceri. Noi siamo assolutamente tranquilli e scendiamo ogni domenica per cercare di vincere. Poi quello che viene ci prendiamo. Non abbiamo fatto i punti fino ad ora che avremmo meritato per le qualità che ha questa squadra secondo me. Quindi dobbiamo rifarci a tutti i costi. Dobbiamo cercare di andare bene. Ora stiamo iniziando a ingranare soprattutto da quando è cambiato sia il mister che un po' diciamo lo spogliatoio. Ora veramente compagni fantastici con il gruppo, la società. Siamo un tutt'uno. è veramente difficile trovare un ambiente così bello e sano. Quindi abbiamo tutte le carte in regola per fare bene veramente e per raggiungere quello che ci spetta veramente e che spetta veramente anche a Caltanissetta come piazza perché con il tifo che c'era anche oggi e spero che sarà sempre di più, è uno spettacolo sia in tribuna centrale che i nostri ultrassi. È stata una partita aperta. Volevamo vincere tutte e due. Siamo passati in vantaggio. Poi siamo stati un po' incapaci a non trattenere il risultato. Loro hanno pareggiato subito e alla fine proprio allo scadere del secondo tempo sono passati in vantaggio. Lì un po' ci siamo innervositi tutti, tutti. Pure io per carità. Negli spogliatoi abbiamo parlato, abbiamo cercato di sistemare qualcosa. Siamo usciti con l'appiglio giusto, siamo usciti con la mentale da giusta. li abbiamo messo sotto, però non siamo stati capaci di fare il gol del pareggio. Loro bravi ad aspettare e ripartire e hanno fatto due gol. Complimenti a loro, alla Nissa, al presidente, all'allenatore. Complimenti. Una bella squadra, quadrata. Poi una cornice di oggi che c'era tanta gente. Peccato, peccato. Mazzara oggi, come dico sempre, deve raggiungere altri 7-8 punti per una salvezza tranquilla. Però se ce la giocheremo, siamo lì, ce la giochiamo. Ogni domenica giochiamo per vincere. Se andiamo ai playoff è bene, se non ci andiamo non succede niente. Volei serie B2 femminile, Alba Verde e Caltanissetta, nona vittoria della stagione. Nona vittoria stagionale per l'Alba Verde e Caltanissetta, ma quanta fatica. Incannate da una classifica che si è dimostrata bugiarda, la combaggia nissena ha sofferto più del previsto, l'irruenza e la combattezza di una saracena che ha fatto passare un brutto quarto d'ora alla formazione nissena, dimostrando da subito che non era scesa a Caltanissetta per una passeggiata. Il primo set è stato vinto dalle avversarie, ma la combaggia nissena ha poi vinto i tre set successivi, lottando contro una saracena Maidoma, ma alla fine conta il risultato e rimanere a guardare le avversarie da capolista. A margine della gara, sottolineiamo il grande successo all'iniziativa Doniamo Sotto Rete, con parecchie decine di giocattoli nuovi e usati, raccolti grazie al cuore dei tifosi dell'Alba Verde. Prossimo impegno, domenica 18 dicembre ad Erice, contro la Procori. I risultati della decima giornata sarebbero i due girone M. Cuscatania, Funivia Etna 3 a 1, Alba Verde e Saracena 3 a 1, Stefanese e Procori e Ricina 0 a 3, Gioiosa Zafferana 2 a 3, Planet Brico City 0 a 3, Fideli Storretta Volley Region 3 a 0, Ardenz Comiso, Pallavolo Crotone 0 a 3. La classifica Alba Verde 28 punti, Zafferana e Pallavolo Crotone 26, Procori e Ricina e Cuscatania 21, Gioiosa 18, Fideli Storretta 17, Funivia Etna 16, Saracena 12, Volley Region 9, Brico City Volley e Ardenz Comiso 6 punti, Stefanese 3 chiude la Planet a 1 punto. Basket Serie D, l'Invicta Caltanissetta si laurea campione d'inverno. Festa in casa Invicta, che chiude in battuta il girone di andata e mantiene saldo il primo posto in classifica con 4 punti di vantaggio sulle seconde nel campionato di Serie D di Basket dopo la vittoria sulla Leonardo da Vinci per 66 a 99. Vittoria netta a Palermo per i ragazzi di coach Spena che chiudono la pratica già nel primo quarto con un primo parziale di più 20. Primato difeso e meritato per la società nissena, composta di soli giocatori locali, che va alla pausa natalizia soddisfatta, ma non sazia e pronta a lavorare per un girone di ritorno in cui non bisogna abbassare la guardia per rimanere in zona playoff e continuare a sognare in grande. Vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che attenzione vedrà un nuovo centro di bassa pressione avvicinarsi all'Italia portando un nuovo peggioramento del tempo soprattutto al centro sud, perturbazione che arriva dalla Spagna. Andiamo a vedere la nuvolosità prevista sul nostro paese, al centro sud nubi estese e compatte, il nord invece viene solo lambito da questo sistema nuvoloso, non mancheranno infatti delle parziali scheritte specie sulla fascia alpina prealpina e l'alta pianura padana. Come precipitazioni tornano piogge abbastanza diffuse nelle regioni centro-meridionali ma anche qualche fiocco di neve, tanto a inizio giornata qualche nevicata anche a quota bassa potrà interessare anche parte del nord. Quindi in definitiva ci attende un martedì di maltempo soprattutto al centro sud, qua con nuvole estese, un po' di pioggia, magari piogge non particolarmente intense ma a tratti piuttosto insistenti. Nord solo sfiorato però nelle prime ore del giorno nevicate anche a quote molto basse, attenzione, su basso Piemonte, entro Terra Ligure e soprattutto Emilia e bassa Lombardia, quindi ci si sveglia magari con i prati un po' bianchi, per il resto al nord mancheranno anche, come vi dicevo, delle parziali aperture. Per tutti i dettagli e comunque sulle vostre località a vista la situazione consultate l'app di Trebi Meteo.